Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Ecco fatto ci si fa troppi pensieri Io mi limitavo ai amichetti di serie A e quelli di serie B ti trattavo come serie C Poi gli amichetti di serie A si sono rivelati le persone più tossiche, ho abbandonato tutti Anche lì fai finta Poi succede caso vuole che Chiara e Eddie si trasferiscono nelle Filippine e io mi trasferisco a New York C'ha capito che intendo? Servono le altre cose, questo intendo Servono, perché poi ci riveliamo ai più tossici nel nostro caso Questo è il numero 4, perché mamma ovviamente in casa mia ha visto Mario, Daniele, Edoardo e Gibbo Quindi ho fatto, questo è il numero 4 E mamma, che fate? Scopate Che ne pensa della gaga? Che ne frega un cazzo di mamma Quindi l'ho introdotto come lui e il mio quarto fidanzato Chi è il preferito di tua madre? E' una delle prime cose che mi ha detto Te lo giuro su quello che vuoi Poi si giustifica e dice no, perché a me piace un altro tipo di ragazza A lui piacciono tipo le curvi, no? A lui piacciono le... le chiama le donnone Ok? E quindi non gli ispiro sesso Sono troppo rettangolare, esatto Vabbè Vabbè ma si trova che però te lo giuro E' una delle prime cose che mi ha detto No! Ha matto tutti Dicevo, scusatemi Mi ammazzo Dov'è? Ma a me me... tanto tipo appunto quella della Trader Ma stia, a me fa impazzire quella sedia lì E... ma perché fa troppo ridere secondo me? Oppure, 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 oppure Qualcosa con Eren Cioè nel senso non metterei me stessa Metterei... metterei qualcosa con Eren O di nuovo qualcosa di meme Cioè per me il top tier shit è il meme Ok? Top tier shit meme Quindi la sedia Mi ha mai trovato il massimo Mi ha fatto crepare Onestamente E... Se non... Nella mente dei panchechi Zizi, buon proposito del gennaio Faccio finta di provarci Tanto so che non me ne frega niente Almeno non mi rompi più le palle Vabbè No, no, no Ce la devo fare Che se no è un pazzesco Ah quindi se la relazione con età No, a parte gli scherzi Perché Diciamo Edoardo ha una tipologia di maturità Ok? E di modi di fare Che si incastrano bene con I miei amici storici Tu ci hai visto Bello Ah, Mario più un bro Ho capito Quindi mi devo mettere Quello d'alardo Va bene dai Meglio il massimo esteticamente Ha capito Mario Fai schifo Hai capito Mario Sei brutto Grazie Penix Per il quinto Non so cosa scrive Non so chi vedrai con te Nella sicurezza Niente Si ma è tu non so scopare Friscia che cazzo Se posso permettermi di dare la mia Ho avuto Credo Tutti i tipi possibili Di relazioni tossiche E quindi In questo posso aiutare Da morire Cioè riconosco Tutti i pattern così Quindi in questo posso Un po' ti aiutare A parte gli scherzi Sono esperto di tra Bro Guarda che è una cosa incredibile Ma guarda che se tu la metti In questo Questa merda Fa la tua Grazie Grazie per il rap Che cos'è Sacchia Dai basta Stacchiamo Date via J-Taz ha detto che questo mese Lo scorpione more Ma come si permette Quel bastardo Scorpione Scusami ma è stato in ospedale Fino a una settimana fa Ma che pensassi alla sua salute J-Taz Allora E' un po' razzista Cioè non E' un po' razzista Eh raga E' un pochino Quindi Secondo me Primo posto Edoardo Però l'ha conosciuto da poco E quindi è tipo Mi piace tanto ma capiamo E prima No in realtà Io stavo con Mario Ok Mario mi ha messo incinta Però Mario non tiene i soldi Per mantenermi E quindi ho iniziato Una relazione con il Maseo apposta Sia un po' per i numeri Perché come vi dicevo Entrambi non stiamo più streamando Così tanto Quindi in conseguenza Se iniziamo una fake relationship Come dire Anche possiamo fare la metà delle live E comunque Facciamo notizia Ma sono incinta I figli di Mario Però li facciamo mantenere da Maseo Che ha molti più soldi rispetto a Mario Perché Mario spende tutti i suoi soldi in droga Questo è Quindi io tecnicamente stavo con Mario Ma insieme abbiamo deciso questo piano malvagio Per Calendario Il calendario Raga Scopriamo su Calendario 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 Sapete quindi che cosa significa questo? Sapete cosa significa? Nel momento in cui abbiamo ricevuto un calendario Eh? Calendario 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 content Raga poi abbiamo anche quello di Jameson Mike Tanto amato che hai conosciuto amichetti Sì mi fa un po' strano Vabbè Per quanto riguarda Michelle Ha detto No ma che bellina Cioè è carina proprio come ragazza Però si veste peggio di te Somma l'avete visto Spendo tutti i suoi soldi in droga Adesso sta iniziando una relazione con il Maseo Così che possa lui Come dire Crescere questi otto figli di Mario E facciamo questa fake relationship Per i viewers Finché Mario non smette di spendere tutti i suoi soldi in droga Va bene? 8 giovani siciliani con i baffi e i capelli rincisi Tutti i cuori Confermo Ho chiesto insistentemente a Baldo Bro Non dovevi dirlo però Scusatemi Scusatemi Allora Che poi Immaginate Immaginate che faccio tutto questo bordello Sono ormai 3-4 mesi Che continuo con Con questa gag di merda E poi che ne so Domani facciamo una live io e Mario Sì è vero Stiamo insieme L'abbiamo nascosto per tutti questi mesi Sì è vero Super Pers 상황 Sono stole